Il campionato si è concluso da appena una settimana ma le operazioni di mercato sono già entrate nel vivo con la di Pablo Cosentino che sta valutando da diverso tempo giovani del campionato cadetto ma anche diversi stranieri. Il primo vero nodo da sciogliere resta però la panchina che a Pulvirenti piaccia l'ex rossazzurro Roberto De Zerbi non è più mistero per nessuno giovane di belle speranze e mancato davvero poco alla sua foggia per centrare i playoff promozione in Lega Pro che grazie al suo tecnico ha trovato identità di gioco e tante soddisfazioni nonostante l'organico non fosse di livello. Il presidente lo vuole e a lui l'interesse del Catania all'usinga e non poco ma chi gli chiede per adesso non si sbottona. In pole position anche Pasquale Marino, Roberto Stellone e Alberto Malesani. Intanto tutti si chiedono cosa accadrà quando il cartellino di Francesco Lodi centrocampista del Parma dopo il 30 giugno tornerà in possesso del Catania. Per la Serie B sarebbe certamente un lusso ma secondo qualcuno in Casa Rosso Azzurra per svariati motivi non ci sarebbe più spazio per lui che piace invece alla Frosinone avendo così la possibilità di giocare in Serie A. Con riguardo infine all'organigramma societario e alla figura di DS dopo l'addio di Daniele Dellicarri resta il punto interrogativo con i riflettori puntati su Davide Baiocco che potrebbe rivestire però la figura di team manager con Diego Canigia direttore dell'area tecnica. Grazie. Grazie. Grazie.